Iniziare, scusate, i 5 minuti di ritardo, ma c'è stato un contrattempo, io sono Laura Solito, non sono Isabella Gagliardi, di cui avete visto forse il nome come coordinatrice della mattinata. Dunque, anche oggi un nuovo incontro con la città e voi sempre più numerosi. L'incontro è con il professor Renato Fani, dal titolo affascinante, chi di noi non si è interrogato su questo tema nel corso della nostra vita, l'alba dei geni, l'origine e l'evoluzione della vita sulla Terra. Il professor Fani è professore di genetica, presso il dipartimento di biologia dell'Università degli Studi di Firenze. Si occupa, dirige il laboratorio di evoluzione microbica e molecolare, presso sempre il dipartimento naturalmente di biologia, e le principali linee di ricerca sono l'evoluzione molecolare, la ricerca riguarda in particolare l'analisi dei meccanismi molecolari responsabile dell'evoluzione dei geni e dei genomi, con particolare attenzione appunto all'origine della vita e all'evoluzione delle vie metaboliche, tema di cui appunto il professor Fani oggi ci parlerà. Come al solito vi ricordo che dopo una lezione del professor Fani potrete rivolgere direttamente le domande, oppure scrivere le vostre domande attraverso messaggini o whatsapp al numero di cellulare che vedete sui cartelloni nei corridoi. Non vedono le prime cinque fine, però possono fare le domande direttamente. Bene, allora il professor Fani, grazie. Grazie. Allora signori, buongiorno a tutti, buon anno a tutti e benvenuti a questo seminario che durerà più o meno mezz'ora, 40 minuti, non di più per non tediarvi. Il titolo è chiaramente un titolo bello, molto bello, è un argomento estremamente complesso che va ovviamente discusso e va trattato con le mani di velluto, con molta dolcezza e con molta delicatezza. È chiaro che per me è sicuramente un onore essere qui oggi e mi fa molto piacere vedere una platea così piena e così stracolma. È chiaro che questo onore però basta cambiare una lettera a questa parola, invece della O ci mettiamo una E e diventa un onere. Quindi è vero che è un onore per me, però è anche un onere per poter discutere di una cosa così importante. Le due cose però vanno sempre o dovrebbero andare sempre di pari passo, non ci dovrebbero essere onori senza oneri e viceversa. Allora cominciamo. Cominciamo e dobbiamo cercare di entrare, entrare in una dimensione che è un po' diversa, un po' diversa come vedremo. Allora il primo interrogativo è da dove arriviamo. Dobbiamo cercare di spogliarci dei nostri abiti e diventare dei cacciatori, cacciatori dell'invisibile. E questo è già difficile di per sé, ma noi ci esaltiamo oggi e cerchiamo di entrare in un altro mondo che è quello di cacciare l'invisibile, andare a scoprire l'invisibile passato. Dobbiamo cercare in un modo e con la nostra immaginazione di tornare indietro nel tempo, 4-5 miliardi di anni fa, cercare di entrare nel tempo profondo e cercare di vedere quali fossero le condizioni della Terra e del sistema solare primordiale. Allora la domanda è come è possibile, come è possibile arrivare da una situazione come questa, che era il caos primordiale, in cui c'era una Terra che non era neanche lontanamente immaginabile, e assimilabile a quella che conosciamo ora. La Terra era completamente spoglia, non c'era niente sulla superficie terrestre, appariva esattamente come la Luna o come Mercurio. Per arrivare poi a una situazione come questa, è un pianeta incredibile, se lo vediamo dall'esterno, il pianeta è un pianeta d'acqua, non è una Terra. Infatti Arthur Clarke dice è veramente inappropriato il termine Terra per un pianeta che è così ricco di acqua. La domanda è come ci siamo arrivati. E come ci siamo arrivati ad un pianeta che pullula di organismi viventi, pieno di organismi viventi. Basta girarci intorno e noi ci possiamo, vediamo animali, vediamo piante, ma vediamo anche che cosa, anche non riusciamo a vedere ciò che è invisibile, quello che noi abbiamo per esempio dentro. Noi siamo fatti da 10.000 miliardi di cellule. 10.000 miliardi di cellule, un numero impressionante. Eppure dentro di noi c'è una vita invisibile che noi non percepiamo, se non in particolari condizioni, che sono i microorganismi. Abbiamo dentro di noi 100.000 miliardi di batteri che convivono con noi. Allora, per poter capire come, dove, quando si è originata la vita, la prima cosa da fare è cercare di capire che cosa è la vita, come possiamo definire la vita un organismo vivente. E poi come si sono evolute le prime forme di vita. Allora, che cos'è la vita? Come possiamo definire un vivente da un non vivente? Non entro nei dettagli, ma vi do tre o quattro, cerco di dare tre o quattro indicazioni. La prima caratteristica è il metabolismo. Il metabolismo è tutta quella serie di reazioni chimiche che avvengono e che possono trasformare la materia in una materia diversa o la materia in energia e energia in materia. È quello che avviene normalmente nel nostro organismo, ma il metabolismo non è una caratteristica solo degli organismi viventi, perché se voi vedete passare una macchina, quella macchina trasforma un liquido che è il carburante in qualcosa di diverso, in dei gas. Quindi il metabolismo non è qualcosa che è, diciamo, peculiare, caratteristico solo degli organismi viventi. Quindi non ci basta dire un organismo vivente ha un metabolismo. No. La riproduzione, allora, è la capacità di dare origine ad entità che sono simili a noi. Anche questo non è vero, perché ci sono i cristalli che si riproducono e danno origine a cristalli che sono simili. E quindi anche la riproduzione non è qualcosa di caratteristico degli organismi viventi e basta. L'evoluzione, le modificazioni che avvengono negli organismi viventi durante il loro percorso, anche questo non è vero, perché l'evoluzione è un fenomeno cosmico. Anche le stelle evolvono, cambiano, nascono, cambiano la loro struttura, la loro forma e poi muoiono. E poi dopo l'informazione genetica, si potrebbe dire noi abbiamo un'informazione genetica che ci permette di dare origine a delle entità, degli individui che sono simili a noi. Ma anche l'informazione genetica non è caratteristica solo dei viventi. Ci sono i virus, entità che non sono, sono in un limbo. Per chi ha visto il Signore degli Anelli, sa che cosa sono i nascol, né morti né vivi, in un limbo in cui possono trasformarsi poi in qualcosa di vivente. Allora, che cos'è un essere vivente? Un essere vivente è una entità che riassume in sé almeno tutte queste quattro caratteristiche. Quindi sono, diciamo, è l'insieme di queste caratteristiche che dà origine ad un organismo vivente. Gli organismi viventi, una volta si parlava di regno animale, regno vegetale, scordiamocelo, scordiamocelo. Gli organismi viventi si dividono in tre grandi gruppi. gli eucarioti a cui noi apparteniamo e che sono tutti quegli organismi che noi riusciamo a percepire con i nostri sensi, con i nostri occhi e poi ci sono qualcosa di più piccolo, i batteri, gli archei, quelli, i microorganismi fatti dalle singole cellule che noi non vediamo ma che ci sono e che sono quelli che c'erano una volta, ci sono oggi e ci saranno quando noi non ci saremo più su questo pianeta. La cosa, quindi, vedete, ogni organismo è formato da delle cellule e delle cellule guardate bene questi piccoli organelli, questi che si chiamano mitocondri perché ritorneranno ad un certo punto del nostro discorso. Ma la cosa impressionante è che ognuno degli organismi viventi ha a comune questa cosa, questa molecola che è pazzesca, è una molecola incredibile e il DNA la molecola che porta all'informazione genetica è la molecola della vita che è una magia è come una magia immaginate provate noi non lo possiamo vedere e non lo possiamo neanche percepire se non con la nostra immaginazione provate a immaginare due eliche due eliche che si avvolgono l'una intorno all'altro e dove c'è scritto di che colore avremo gli occhi come saremo fatti e via discorrendo non c'è scritto se saremo intelligenti o meno però ci danno una struttura questa è la molecola del DNA allora com'è possibile che sia comparsa sulla superficie terrestre in un ambiente totalmente sterile una molecola come questa il DNA ha nella sua struttura e nella sua forma intrinsecamente la capacità di duplicarsi cioè di trasmettere l'informazione da una cellula all'altra e ora vi faccio vedere un video che a me mette sempre i brividi perché è sempre una cosa se lo trovo ovviamente se vediamo un pochino questo ok questo è un vecchio è un vecchio video fatto più o meno 30 anni fa guardate che bellezza queste sono due cellule in cui il DNA si sta duplicando i cromosomi si stanno formando questi cromosomi si allineano all'interno sulla superficie nel mezzo della cellula e a un certo punto come per magia vengono tirati da una parte e dall'altra per le cellule guardate che bellezza che è questo video in questo modo si formano due cellule che sono geneticamente identiche immaginate questo all'origine della nostra esistenza quando i nostri genitori ci hanno dato origine un'unica cellula una una sola che si divide per dare origine a 10.000 miliardi di cellule immaginate l'armonia la perfezione di un sistema di questo tipo è una cosa incredibile allora la domanda che noi scusate devo ritornare alla presentazione tutto questo noi non lo vediamo e non lo percepiamo ma in questo momento sta avvenendo dentro di noi miliardi di cellule in questo momento stanno facendo questo si stanno dividendo il DNA si sta replicando con una velocità che noi non possiamo neanche lontanamente percepire ma tutto questo sta avvenendo dentro di noi in una situazione di armonia pazzesca e di armonia cosmica allora qual è il sogno? il sogno è cercare di capire i meccanismi molecolari della vita da dove come si possono essere originati nel corso dei miliardi di anni e dobbiamo cercare di arrivare a capire quali sono le nostre origini allora la domanda è dove si è originata la vita possiamo diciamo partire da due scenari possibili se ammettiamo che la vita non sia il risultato di un atto creativo e ognuno di noi è libero di pensare questo però è libero anche di pensare una cosa diversa che non sia il risultato di un atto creativo ci dobbiamo immaginarsi capire dove si è originata la vita e dobbiamo tornare indietro fino a 4 5 miliardi di anni fa e a questo punto possiamo immaginarci due scenari alternativi la vita è arrivata sulla terra da un altro pianeta per esempio da un altro punto del cosmo quella che viene chiamata la panspermia panspermia vuol dire semi ovunque ci potrebbero essere arrivati alle prime forme di vita attraverso l'idea della panspermia non è nuova risale più o meno agli inizi del novecento con Arrhenius e viene poi ripresa da Fred Hoyle e Vikramasching nel 1970 e poi anche da altri e soprattutto da uno dei due che ha scoperto la struttura della doppia elica da Francis Crick che parla addirittura di panspermia guidata cioè di esseri extraterrestri che inseminano la terra con dei microrganismi ma la panspermia dice questo dice che sulla terra il materiale vivente le prime forme viventi sono arrivate attraverso degli oggetti le meteoriti le comete e via discorrendo che solcano o solcavano l'universo e il nostro sistema solare primordiale 4-5 miliardi di anni fa ricordatevi che in quel periodo tutto era bombardato e tutto era caotico c'era un caos pazzesco erano solo dei protopianeti c'era pieno di comete pieno di meteoriti e via discorrendo quindi la terra era impattata con tutti questi grandissimi corpi pieni di acqua pieni forse anche delle prime forme di vita ma dentro non solo nelle meteoriti e nelle comete anche nella porvere intestellare si trovano delle molecole molecole organiche che sono i mattoni per la formazione delle prime delle forme viventi l'altra possibilità è che la vita sia apparsa sul nostro pianeta e se apparsa sul nostro pianeta allora bisogna capire quando dove e come sia originata vi faccio un breve percorso storico perché è chiaro che il problema dell'origine della vita è stato ovviamente da tutti già dall'inizio dai primordi ci siamo chiesti da primordi non ci siamo ci sono chiesti diciamo da dove siamo arrivati la vita che cos'è Aristotele per esempio parlava della generazione spontanea della vita i quattro elementi non era lui in realtà che aveva pensato ai quattro elementi acqua, area, terra e fuoco erano simene però lui l'aveva ripreso però acqua, aria, terra e fuoco che cosa diceva Aristotele? diceva che tutto ciò che noi vediamo sulla terra è il risultato di una combinazione diversa di questi quattro elementi che danno origine in modo combinandosi in maniera diversa ai viventi e non viventi e che la vita si generava spontaneamente dalla materia non vivente dal fango le rane e via discorrendo le mosche dalla carne marcia e così via tutto questo ricordatevi che impregna la società per migliaia di anni fino a quando un certo Francesco Redi un aretino che però lavorava a Firenze e lavorava a Firenze e lavorava guardate dove qualcuno di voi ci è stato di sicuro anzi noi di sicuro alla specola girava lì nei giardini della specola girava nel giardino a Bitboboli andava a piazzale Michelangelo fino a quando Francesco Redi non fa un esperimento di una semplicità abissale per oggi se lo facessimo oggi prende prende immaginate lo abbiamo studiato nei libri di scuola delle medie o anche delle superiori prende due barattoli questi due barattoli uno ci mette due pezzi di carne uno lo tappa con un coperchio e l'altro lo lascia libero e quello che succede è che le mosche si riproducono si compaiono solo ed esclusivamente dove dove il barattolo è aperto per noi è banale tutto questo perché è ovvio che è così ma per Francesco Redi in quel periodo tre o quattrocento anni fa ricordatevi che era una cosa devastante Redi dimostra in questo modo che un organismo vivente le mosche derivano da organismi viventi preesistenti scombussola completamente l'idea della generazione spontanea a livello macroscopico Redi dice no non è vero non è vero che gli organismi viventi si generano spontaneamente dalla materia inanimata si originano da organismi viventi preesistenti e allora la domanda è ma se un organismo vivente deriva da uno preesistente e ancora da un altro e ancora da un altro e ancora da un altro se io torno indietro nel tempo come si sono originati i primi organismi viventi un altro italiano o un altro italiano Spallanzani noi ricordiamo sempre Pasteur però in realtà Spallanzani Lazzaro Spallanzali che era un abate quindi ci aveva tempo anche per fare un po' di esperimenti si dimostra a livello microscopico ciò che Redi aveva dimostrato a livello macroscopico in quel periodo nell'epoca di Spallanzani già c'erano i primi microscopi quindi si potevano vedere le prime di forme di vita microscopiche i primi microrganismi e quindi lui dimostra che anche nel caso di microrganismi i microrganismi originano da microrganismi preesistenti fino ad arrivare poi in quel periodo incredibile 1800 c'è la seconda metà dell'800 ricordatevi in quel periodo Pasteur Mendel per la genetica Darwin per l'evoluzione è stata una congiunzione astrale pazzesca in quegli anni perché ovviamente la scienza ha fatto un salto di qualità incredibile Pasteur dimostra in quegli anni che gli batteri i microrganismi derivano da microrganismi preesistenti quindi tutto comincia a prendere una nuova forma Darwin con la sua origine delle specie si comincia a pensare che forse non è vera perché veramente non c'è la generazione spontanea forse veramente gli organismi viventi derivano da organismi viventi preesistenti e si fa sempre più pressante l'idea ma allora se torniamo indietro nel tempo com'è che si sono originati i primi organismi viventi se questo è vero questo significa che se noi torniamo indietro nel tempo tutti gli organismi devono avere origine da un ultimo progenitore comune di cui poco sappiamo ma che cominciamo a intravedere nella nebbia quali fossero le sue caratteristiche questo progenitore comune viene chiamato Luca da un acronimo che vuol dire Last Universal Common Ancesto cioè l'ultimo progenitore comune universale io lo so che qualcuno che si chiama Luca comincia a dire allora sono io il progenitore e da questo progenitore comune si sono diramate come nell'albero della vita di Klimt tutti gli organismi viventi così come noi li conosciamo allora il punto è questo com'è possibile arrivare da una situazione della terra primordiale così come noi l'abbiamo immaginata ad una popolazione di cellule che rappresentava l'ultimo progenitore comune allora se immaginiamo questo dobbiamo immaginare che la vita abbia avuto i suoi precursori nell'evoluzione cosmica e nell'evoluzione chimica ora entriamo un attimo nella fisica e nell'astrofisica in particolare allora voi sapete che il sole è una stella che si chiama di seconda generazione mi porteranno i fisici i nostri amici colleghi colleghi fisici se dico qualche inesattezza però di seconda generazione che cosa vuol dire che deriva dall'esplosione di una stella una supernova che dà origine a una nebulosa e questa nebulosa questa materia che fa parte di questa nebulosa ad un certo punto comincia a ruotare su se stessa ruota 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 si formano si aggregano cominciano ad aggregarsi dei corpi cominciano ad aggregarsi una parte centrale che è il sole primordiale si cominciano ad aggregare ad aggregare quelli che saranno poi i pianeti i pianeti futuri e via discorrendo e tutto questo è caotico in quel periodo comete asteroidi si scontrano fra di loro pianeti si frantumano si rimettono insieme e via discorrendo fino a che a un certo punto tutto si comincia a placarsi come in un waltzer di Strauss quello che succede è che i pianeti cominciano a girare lentamente intorno intorno al sole e quello che succede sulla nostra terra che cos'è? è che il sole spinge il sole soffia respira il sole spinge c'è un vento solare che spinge fortemente quindi l'atmosfera che aveva la terra all'inizio viene spazzata via da questo vento solare che trasforma la terra primordiale in qualcosa di arido completamente sterile in cui non c'è nulla non c'è acqua non c'è niente non c'è atmosfera e qualcosa però deve succedere perché poi bisogna che questa terra diventi come noi la vediamo oggi e quello che succede è che noi non sappiamo se la terra all'inizio fosse una palla di ghiaccio se fosse cioè fredda o se fosse un grosso calderone molto caldo ma l'ipotesi più accreditata è che ci fosse un clima simile a quello che noi abbiamo oggi quello che si chiama un clima mesofilo però c'erano delle forze energia energia che arrivava dal sole immaginate quante energia arrivava dal sole caldissimo primordiale e soprattutto dalle eruzioni vulcaniche quindi dalle forze endogene della terra stessa allora si forma quello che nel 1928 Oparin chiamò il brodo primordiale tutti noi io immagino abbiamo sentito parlare almeno una volta del brodo primordiale vedete c'è anche qualcuno che ha fatto qualcosa che si chiama la primordial super io non l'ho mai mangiata però mi rifiuto anche di mangiare una cosa di questo genere allora Oparin nel 1924 elabora l'idea del brodo primordiale ora il 1924 sono quasi cent'anni fa quasi cento anni fa vi ricordo che il DNA la struttura è stata scoperta nel 1953 nel 1924 non si aveva un'idea di come fosse l'informazione genetica delle cellule sapevano pochissime allora Oparin sulla base di poche informazioni e qui ciò che mi stupisce quello che stupisce a me è l'immaginazione la capacità immaginativa dell'uomo cioè come con pochissimi dati che noi abbiamo a disposizione però con la nostra immaginazione possiamo cercare di capire scandagliare fare delle ipotesi immaginarsi dei mondi Oparin che cosa dice dice partendo da un'idea che è questa che l'atmosfera primitiva c'erano tutto un sacco di cose ma la cosa importante è questa è che mancava l'ossigeno molecolare quello che noi respiriamo è quello che noi a noi permette di vivere quindi non c'era l'ossigeno molecolare l'ossigeno molecolare la mancanza di ossigeno vuol dire che noi non avremmo potuto resistere nell'atmosfera nella terra primordiale e la cosa ancora più importante è che questo ossigeno molecolare la sua mancanza manca lo strato di ozono e se manca lo strato di ozono sapete benissimo qual è l'effetto che i raggi ultravioletti che arrivano dal sole non sono filtrati dallo strato di ozono arrivano sulla terra con una energia pazzesca quindi sterilizzano completamente la superficie terrestre questo significa che se la vita le prime forze di vita forse no le prime forme di vita fossero comparsa sulla superficie terrestre sarebbero state uccise immediatamente dai raggi ultravioletti che arrivavano dal sole quindi c'è un unico posto un unico ambiente dove la vita può essere comparsa e questo ambiente è l'acqua solo nell'acqua allora Oparin dice questo si immagina questo immaginate si immagina questo Oparin cento anni fa l'atmosfera primordiale con tutte le sostanze inorganiche lui si immagina che queste sostanze inorganiche bombardate dall'energia dal flusso di energia immenso che arrivava dal sole e dall'energia che scaturiva dai vulcani dalle eruzioni da quello che avveniva sulla superficie terrestre queste molecole che sono nelle nuvole si combinano tra di loro e cadono con la pioggia cadono e si formano vanno a finire nella superficie delle acque negli stagni nei fiumi nei laghi e via discorrendo e piano piano aumenta la concentrazione di queste sostanze come a formare un brodo un brodo primordiale in cui si sarebbero formate in un modo che lui non sa ovviamente e che anche noi difficilmente riusciamo difficilmente ad immaginare e a capire si formano le prime cellule che non sono quelle come quelle che noi vediamo oggi e di cui noi abbiamo la percezione ve le dovete immaginare come bolle di sapone bolle di sapone che potevano rompersi unirsi tra di loro e via discorrendo quindi miliardi di miliardi di miliardi di bolle di sapone immerse in questo brodo primordiale che potevano rappresentavano le prime forme di vite anaerobie vuol dire cioè che dovevano stare in un ambiente in assenza di ossigeno e soprattutto eterotrofe cioè mangiavano ciò che c'era nel brodo nel brodo primordiale allora quest'idea di Oparin rimane ferma rimane nell'oblio per una ventina quasi trent'anni fino a quando la congiunzione astrale 1953 è un anno pazzesco è un anno che è incredibile perché per la scienza ovviamente e non perché alcuni di noi sono nati nel 1953 il punto è che è una congiunzione astrale per la scienza nello stesso anno Watson e Crick che cosa fanno? determinano la struttura della doppia elica Sanger determina per la prima volta la sequenza di una proteina Stanley Miller nel 1953 fa l'esperimento sulla chimica prebiotica dimostrando in modo inequivocabile che i mattoni della vita si possono formare spontaneamente io quando l'ho visto per la prima volta intorno all'inizio degli anni 90 Stanley Miller pensavo fosse un ologramma perché l'avevo studiato a tempi del liceo e pensavo fosse già morto invece no perché? perché questo esperimento l'ho fatto quando aveva 20 anni e quindi nel 90 aveva semplicemente una sessantina d'anni e alcuni di noi io Marco Bazzica Lupo ed altri abbiamo avuto la fortuna di conoscere Stanley Miller la quale una personalità incredibile di cui noi abbiamo apprezzato al di là della conoscenza e dell'aspetto professionale l'umiltà l'umiltà dell'uomo l'umiltà di queste persone allora Stanley Miller fa un esperimento che per noi è se uno lo vede ora dice ma è semplicissimo ma è stato fatto nel 1953 65 anni fa cerca cioè partendo dall'ipotesi di Oparin di ricostruire in laboratorio ricostruire ovviamente in laboratorio una sorta di brodo primordiale e fa un esperimento estremamente semplice prende un'ampolla questa ve lo descrivo brevemente la scalda in questa ampolla ci sono delle sostanze ovviamente quello che si immaginava ci fosse nell'atmosfera nell'acqua primordiale questo vapore acqueo sale va a finire in un'altra ampolla che è questa dove ci sono due elettrodi che fanno delle scariche elettriche in questo modo Miller mima l'energia che arriva dal sole o l'energia che arriva dall'interno della terra poi c'è un condensatore che le nuvole la pioggia in modo che questa diventi liquido e poi tutto quello che si forma va a finire qui e lui lo raccoglie in delle provette quindi il sistema è chiuso il sistema è chiuso questo significa che se non succede niente di particolare in questa ampolla porca miseria non mi riesce in questa ampolla dovremmo ritrovare esattamente le stesse cose che ci sono qui ma le cose non vanno in questo modo questo è l'apparecchio originale di Miller all'inizio dell'esperimento e questo è l'apparecchio di Miller dopo l'esperimento è chiaro che è successo qualcosa si vede anche ad occhio allora nel 1953 non avevano a disposizione tutte le tecnologie quasi fantascientifiche che abbiamo noi ora a disposizione ne avevano poche ma con quelle poche a disposizione Miller trova un sacco di cose questa è la provettina questa è la provetta dove vengono sono stati raccolti da Miller tutte le sostanze del suo esperimento e quando io l'ho presa in mano questa provetta è stata un'emozione dice questo non è normale no io sono normale ma mi emoziono dalle cose perché ho tenuto in mano la provetta originale in cui Miller aveva fatto il suo esperimento ed è nascosta da una parte non è qui è in Messico a casa di un nostro amico e questo è una provettina ma lì c'è il mondo il mondo c'è Miller che cosa trova? fa una cromatografia una tecnica che ci permette di capire che tipo di molecole ci sono e vede che oltre alle sostanze che erano presenti all'inizio ce ne sono altre che invece non c'erano e che si sono originate per forza di cose grazie alle scariche elettriche che lui ha dato in quell'ampolla e soprattutto trova quelle molecole che sono i mattoni della vita gli aminoacidi le basi azotate quelli che formano le proteine che formano gli zuccheri quelli che formano il DNA quindi questo che cosa vuol dire? che Miller dimostra in modo inequivocabile che nelle condizioni ipotizzate da Oparin si possono formare i mattoni della vita non dimostra che dalla materia inorganica si formano i primi organismi viventi ma dimostra che queste molecole i mattoni della vita si possono formare allora è tutto questo molto semplicemente per modo di dire le prime cellule quindi erano estremamente semplici bolle di sapone bolle di sapone in cui all'interno ci deve essere andata a finire una molecola informazionale il primo molecole di DNA quindi immaginate queste bolle di sapone che avevano al loro interno tutte queste molecole che si dividevano potevano scambiarsi l'una con l'altra un mondo pazzesco quindi che cosa succede? succede che piano piano si arriva a Luca cioè a quella entità entità da cui si sono originati poi tutti gli organismi viventi e questo è un concetto importante Luca non era un essere vivente immaginate questo immaginate la superficie terrestre dove non c'è nulla ad eccezione dell'acqua la superficie spoglia non ci sono piante non ci sono animali i batteri i microrganismi vivono solo ed esclusivamente nell'acqua quindi la superficie terrestre è sterile in questo ambiente acquoso i miliardi i miliardi di organismi che stanno lì dentro convivono tra di loro ma c'è una cosa importante non competono tra di loro perché? perché io so fare Renato sa fare una cosa Paolo ne sa fare un'altra Angela un'altra ancora Laura un'altra ancora e via discorrendo ma nessuno di noi è capace di fare tutto ha bisogno degli altri per sopravvivere quindi collaborano tra di loro quindi Luca è una entità costituita da miliardi e miliardi e miliardi di cellule che tra di loro si combidano si trasformano passano la loro informazione e si aiutano l'una con l'altra allora la domanda è se stavano così bene in questo brodo primordiale queste cellule perché sono cambiate? si avevano tutte a disposizione ci avevano da mangiare il brodo primordiale c'era le cellule stavano lì si potevano dividere si davano una mano tra di loro per quale motivo è cambiato il sistema è cambiato il pianeta un motivo molto semplice questo è il motivo è che voi immaginate che tutti quelli così nei triangolini quelle cose sono ovali sono le cellule che si moltiplicano e tutti quegli altri aggeggini sono i nutrienti via via che le cellule aumentano di numero la materia i nutrienti a disposizione cominciano a diminuire e quindi quello che succede deve per forza queste cellule devono aver imparato a fare qualcosa noi non saremmo qui nessuno di noi sarebbe qui se non fosse successo qualcosa e la chiave qual è? la chiave è l'energia perché? perché queste cellule devono aver imparato a farsi da sole le cose che non avevano più a disposizione è come dire io sono abituato ad andare al ristorante a un certo punto i ristoranti chiudono bisogna mi faccia da mangiare da solo semplice come concetto quindi le cellule devono imparare a farsi le cose da solo qualcosa deve essere successo qualcuno deve aver imparato a fare qualcosa e questo qualcosa che cosa? che cos'è? compare all'improvviso quasi per magia una molecola che si chiama clorofilla tutti noi abbiamo sentito parlare della fotosintesi clorofiliana questa clorofilla è una molecola che riesce a catturare la luce allora la luce che arriva sulla superficie terrestre non è più libera non può andare dove vuole non può rifrangerse non può andare spaziare bisogna viene presa viene risucchiata viene catturata dalla clorofilla viene mangiata dagli organismi che contengono la clorofilla che in questa maniera cominciano a diventare capaci di farsi da soli le cose che stavano sparendo nel brodo primordiale sono quelli che vengono chiamati i cianobatteri organismi bellissimi se voi li vedete al microscopio vi vengono i brividi sono verdi hanno questi filamenti sono delle cose pazzesche incredibilmente incredibilmente belle questo effetto la presenza di cianobatteri e quindi il fatto che facciano la fotosintesi ossigenica si dice fa sì che venga pompato nell'atmosfera il primo inquinante in assoluto che è paradossale perché questi perché questi cominciano a fare l'ossigeno l'ossigeno quindi comincia a essere andare a finire nell'atmosfera comincia a aumentare la sua concentrazione e quello che succede è che i batteri che vivevano prima i microorganismi l'ossigeno non lo potevano tollerare quindi o muoiono o muoiono oppure lo cominciano ad utilizzare in qualche modo cambia completamente la superficie terrestre perché? perché questo si forma lo strato di ozono lo strato di ozono fa sì che i raggi ultravioletti che arrivano dal sole vengono filtrati dallo strato di ozono quindi arrivano sulla superficie terrestre più dolci meno intensi con meno energia e quindi questo fa sì non sterilizzano più la superficie terrestre questo fa sì che le prime cellule quelle che vivevano nell'ambiente acquoso possono cominciare ad uscire escono dall'acqua cominciano a colonizzare le terre emerse la superficie terrestre e quello che succede è che ad un certo punto cominciano a comparire delle cellule più complesse e le cellule più complesse sono quelle che hanno dato origine a noi agli umani agli animali ai vegetali e via discorrendo c'era è morta qualche anno fa lì in Margolis qualcuno di voi l'avrà sentita rammentare una donna pazzesca pazzesca parlava inglese italiano spagnolo ogni tanto tedesco francese le parlava tutte e ogni tanto ci parlava pure in nahuatl che è la lingua vecchia la lingua antica degli aztechi era una cosa incredibile intorno agli anni 60-70 lì in Margolis fu osteggiata per tutto questo per un motivo molto semplice elabora l'ipotesi endosimbiontica i microrganismi che abitavano la terra erano simili a quelli per 3 miliardi di anni ci sono state soltanto loro quindi noi non contavamo assolutamente nulla in quel periodo e non avremmo contato nulla quello che succede è che secondo lì in Margolis in quel periodo si cominciano a mettere insieme organismi diversi batteri diversi si mettono in una condizione di endosimbiosi si uniscono l'uno all'altro quindi cominciano a fare delle cose un pochino più complesse cominciano a formarsi nuclei cellulari il DNA comincia a rimescolarsi l'informazione genetica comincia a dare origine a nuove forme e via discorrendo e così via dando origine quindi a degli organismi a delle cellule che vengono chiamate eucariotiche lì in Margolis fu osteggiata in America per questo perché? per un motivo semplice perché si passava da una visione della competizione tra organismi a una visione di cooperazione tra organismi che è totalmente diverso rispetto alla competizione lì in Margolis quindi questa ipotesi dell'endosimbiosi fa sì che poi alla fine si siano originate prima le cellule animali e poi le cellule vegetali abbiamo le tracce dentro di noi di questo e come se ce l'abbiamo tutte le volte che noi respiriamo noi non lo sappiamo non riusciamo a vedere quello che succede però provate un attimo a immaginare quello che succede all'ossigeno quando va dentro entra va nei polmoni dai polmoni entra nel circolo sanguigno viene catturato dai globuli rossi i globuli rossi nel giro di un minuto vengono trasportati in tutto il corpo rilasciano l'ossigeno questo va nei tessuti rientra nelle cellule e dopo una volta è entrato nelle cellule va in quei corpiccioli che sono i mitocondri che vi dicevo all'inizio che sono il risultato dell'endosimbiosi erano dei batteri ancestrali quindi dentro di noi noi ce l'abbiamo le tracce di quello che è successo 3 o 4 miliardi di anni fa quindi scompaiono esplode la vita compaiono gli animali compaiono le piante compare la riproduzione sessuale e con la riproduzione sessuale c'è un'esplosione di vita una esplosione cominciano a comparire organismi estremamente complessi e quello che succede è che piano piano sempre di più il pianeta cambia anche in conseguenza della comparsa di organismi viventi sempre più più complessi chiudo chiudo con due o tre diapositive allora il sogno qual è? il sogno è cercare di capire quali sono i meccanismi molecolari quali sono i meccanismi della vita e come questi possono comportare l'evoluzione dell'evoluzione degli esseri viventi il sogno non è questo ovviamente questo è Patrizio Roversi vi spiego perché questo magari è un incubo ma non non un sogno allora Patrizio Roversi ha fatto delle trasmissioni e una di queste si chiama Evoluti per caso qualcuno forse l'avrà visto qualche anno fa è una delle trasmissioni più peggiori in assoluto che la RAI mente umana possa aver concepita veramente non l'ha seguito quasi nessuno noi lo seguivamo come scienza ma veramente una cosa di una bruttezza indicibile allora io e lui ci siamo trovati insieme ad altri ad altri qualche anno fa a Modena a fare dei seminari e lui ha detto una cosa che mi ha fatto rabbrividire mi ha fatto mi ha detto sai io a fare questa trasmissione mi sono accorto che fare lo scienziato è divertente al che io sono rabbrividito sono e davanti a tutti e glielo ho detto mi sono alzato e ho detto tu non puoi far passare gli scienziati come gente che si valocca nella maniera più assoluta la scienza è qualcosa di diverso e mi rivolgo a voi ragazzi ci sono degli studenti vedo voi che vi avvicinate e ora vi state avvicinando alla scienza la scienza è qualcosa di diverso la scienza è impegno è studio è professionalità è tutto questo non si può arrivare a capire i meccanismi della vita se non si studia se non ci si impegna e non si va avanti però è anche un'altra cosa è anche passione vuol dire che gli esperimenti devono essere fatti è qualcosa che non può essere fatto come altri tipi di lavori no ci vuole passione però vi dà anche un sacco di emozioni vi dà un'emozione come a me tutte le volte che la vedo da la visione di questo video ve lo faccio rivedere perché secondo me è di una bellezza eh? se lo vedo però se lo ripesco perché non è eh? non lo trovo più lo ho buttato via vabbè quel quel video che vi fa vedere come le cellule si possono si possono dividere allora voi che vi avvicinate ora vi avvicinate ora fatevi travolgere fatevi travolgere dalle emozioni che la scienza vi può dare perché questa dà la conoscenza vi fatevi trasportare è un torrente la conoscenza è un torrente che non vi arricchirà forse non vi arricchirà da un punto di vista economico ma vi arricchirà così tanto dentro così tanto dentro vi darà così tanto che tutte le volte che voi vi guarderete intorno o vi guarderete in altro per vedere tutto ciò che il vivente vi dà tutta l'armonia che c'è dentro vi verranno i brividi vi verranno i brividi e tutto questo vi darà un'emozione che vi porterete dietro per tutta la vita grazie a tutti voi grazie grazie a tutti grazie grazie ha delle domande? sì bene venga qui venga qui grazie dopo questa meravigliosa lezione sono iniziate ad arrivare qualche domanda qualche richiesta di spiegazioni aggiuntive vado in ordine di arrivo allora la prima è questa se la vita è originata dalla materia inorganica dovrebbero essere ancora presenti sulla terra forme di protovita intermedie fra materia inorganica e batteri sono state trovate queste forme di protovita le si stanno cercando? allora le prime forme allora no non sono state trovate nei termini in cui noi ce le possiamo immaginare ci sono delle delle forme di vita fossili che noi sappiamo esserci e sono sicuramente le stiamo cercando un sacco di gente sta cercando le tracce delle prime forme di vita poi le faccio da pallino c'entra Dio in tutto questo allora bella domanda cioè il conflitto fra Dio allora io non lo so se c'entra Dio o comunque un'entità è chiaro che questa è una questione al solito la fede e la scienza io credo però che perlomeno questa è la mia interpretazione personale tutte le volte che noi andiamo a fondo e sempre più andiamo a fondo e cerchiamo di capire i meccanismi che sono alla base della vita rimaniamo sempre più stupiti e sempre più affascinati perché c'è un'armonia dentro le cellule in tutti i meccanismi in tutto quello che avviene voi avete visto quel video che è la duplicazione del DNA due cellule che si dividono ma voi immaginate all'interno delle nostre cellule quello che sta succedendo c'è un'armonia pazzesca è un'armonia tale che è difficile da immaginare posso capire chi crede in una entità superiore che dà delle direzioni però io credo che il problema debba essere spostato non a 4 miliardi di anni e mezzo di anni fa ma debba essere spostato 20 miliardi di anni fa quando si è originato l'universo e allora a quel punto credo che ognuno di noi ha nella propria intimità nella propria anima ha delle sue risposte che ovviamente può o meno condividere con gli altri anche questa è parzialmente legata la fede e la creazione sono due momenti dell'universo completamente assestanti la fede e la creazione sono due momenti dell'universo completamente assestanti non ne ho la minima idea non ne ho non so rispondervi non le so rispondere oggi si è fermata l'evoluzione sì no no allora no l'evoluzione è un processo continuo che sta andando ancora avanti noi non siamo il punto più alto scordiamoci questo fatto che noi siamo il punto più alto dell'evoluzione tutti gli organismi viventi stanno cambiando e si stanno modificando noi ci stiamo modificando come si stanno modificando le piante gli animali i microorganismi e via discorrendo ma il potere non ce l'abbiamo noi ce lo dobbiamo scordare non abbiamo nessun potere su questo pianeta il potere ce l'hanno quelli che noi non vediamo ce l'hanno i microorganismi ve l'ho detto prima ve l'ho detto c'erano 4 miliardi di anni fa ci sono ora e noi possiamo vivere perché ci abbiamo 100 mila miliardi di batteri dentro che ci fanno qualcosa che noi non sappiamo fare e quando noi non ci saremo più i batteri continueranno a vivere tranquillamente i microorganismi continueranno a vivere tranquillamente quindi l'evoluzione è un processo che sta andando avanti alcuni processi sono molto veloci altri processi sono invece molto più lenti e via discorrendo ma tutto evolve continuamente dopo gli esperimenti che hanno dimostrato come si sono formati i primi mattoni ci sono stati esperimenti che hanno dimostrato che dai mattoni si formano invece le protocellule allora si sta facendo allora ci sono degli esperimenti sono stati fatti tanti esperimenti che hanno dimostrato che si possono formare tutti i mattoni della vita come quello di Stanley 1000 si stanno facendo anche esperimenti per cercare di costruire ex novo delle cellule a partire da questi da questi mattoni però e sicuramente prima o poi succederà però per ora non è ancora successo questa è lunga si è molto densa mettiamoci con calma recentemente è stato scoperto da un gruppo di scienziati dell'Oc Origination Laboratory negli Stati Uniti il punto critico quantistico in altri termini un nuovo modo in cui un materiale può cambiare da uno stato a un altro per effetto di trasformazioni microscopiche potrebbe contribuire a giustificare la teoria evoluzionistica il sole potrebbe aver contribuito a creare le condizioni per questi mutamenti quantistici che hanno generato Luca sui mutamenti quantistici credo che i fisici potrebbero dire qualcosa di più rispetto a me di sicuro di sicuro allora di sicuro il sole ha contribuito è ovvio che ha contribuito perché l'energia per la comparsa delle prime forme di vita è arrivata dal sole e anche dalle forze endogene però se questo poi abbia avuto un'influenza su queste come si chiamano scusate cose quantistiche oggettivamente credo che i fisici potrebbero dare una chiedo scusa parlava di condizioni sì questo sì certo non lo so dire prego ah sì c'è una come sono comparsi virus e anche abbinata il metano liquido può essere un'alternativa certo allora belle domande niente male allora il metano liquido a noi per noi no per gli organismi eventi come noi li conosciamo no però questo non significa che non ci siano in altri mondi in altri mondi delle forme di vita che non sono basate sul carbonio o su altre cose può essere benissimo che i mondi dove c'è del metano liquido siano comparse delle forme di vita completamente diverse da quelle come noi le conosciamo quindi la nostra mente come dico spesso ai miei studenti deve essere aperta e non pensare che la vita deve essere per forza così come noi la conosciamo altri mondi possono avere forme di vita completamente diverse per quanto riguarda i virus invece è una questione importante i virus sono borderline come avete visto come in Nazgul del signore degli anelli cioè una situazione in cui non sono né morti né vivi c'è chi li considera organismi viventi c'è una in realtà per quanto mi riguarda per quello la mia opinione personale è che non sono organismi viventi perché non hanno in sé tutte le caratteristiche che noi abbiamo elencato poi può essere anche semplicemente una questione di definizione però i virus sono delle schegge di fatto sono non bisogna stare attenti a quello che dicono in televisione perché ieri sera al telegiornale hanno detto che sono state infettate le persone con dei virus della salmonella la salmonella non è un virus è un batterio è un'altra cosa sono cose diverse cioè bisogna stare molto attenti i virus sono delle schegge sono molecole di DNA o di RNA ma mettiamo molecole di DNA incapsulate in uno scheletro proteico che viaggiano viaggiano da tutte le parti e però che per moltiplicarsi hanno bisogno di infettare un organismo vivente una cellula noi quando abbiamo il raffreddore lo passiamo agli altri perché perché i virus che si sono moltiplicati con il respiro poi vanno a infettare anche altri altri individui allora sull'origine dei virus è di battuta alcuni pensano che siano stati proprio i virus quelli che hanno in qualche modo contribuito a formare le prime forme di vita altri pensano che invece siano il risultato semplicemente di segmenti di DNA che sono schizzati via e sono diciamo entrati a far parte di questi capsidi di questi contenitori personalmente ritengo che con l'origine della vita abbiano poco a che fare è possibile ipotizzare che prima del caos primordiale ci fosse il nulla la filosofia questa è teologia filosofia non lo so io non c'ero quindi non potevo non posso sapere che cosa c'era 20 miliardi 20 miliardi di anni fa poi definire il nulla e lo spazio e il tempo chiaramente sono questioni filosofie il tempo esiste forse perché esiste la materia queste sono questioni oggettivamente non le so non so dire non so rispondere a questa domanda perché è una domanda che va al di là della nostra conoscenza questa è bellissima secondo me i microorganismi hanno coscienza di sé è bellissima allora allora la questione della coscienza dell'autocoscienza è una questione è una questione importante sappiamo questo sappiamo questo allora mettiamola in questi termini sappiamo che i microorganismi si parlano tra di loro c'è una sorta di interazione fra questi microorganismi che li fa parlare parlare non vuol dire avere delle corde vocali si scambiano dei segnali un po' l'idea della sociobiologia dell'idea cioè che ci siano interazioni tra questi tra questi microorganismi che poi abbiano dipende da cosa definiamo coscienza se i microorganismi percepiscono se la coscienza è la percezione ad esempio del proprio stato fisiologico allora forse hanno la loro coscienza se la percezione è quella di sentire la presenza di altri microorganismi allora di sicuro hanno la loro coscienza perché anche i microorganismi possono percepire capire che cosa è se poi hanno capacità di pensiero come lo abbiamo noi questo oggettivamente credo che sia un po' al di là di quello dopo gli esperimenti che hanno dimostrato come si sono formati i primi mattoni ci sono stati esperimenti che hanno dimostrato che dai mattoni si formano le protocellule esatto è quella di prima quindi c'è una codina che negli ultimi cento anni si sono osservati nuovi organismi che non esistevano prima allora dunque da un punto di vista macroscopico credo di no negli ultimi cento anni però da un punto di vista microscopico sì questo è chiaro cioè i microorganismi i batteri cambiano continuamente quindi quello che succede è che parlo dei microorganismi perché è quello su cui possiamo ragionevolmente lavorare nel senso che per poter vedere il cambiamento di una specie macroscopica ci vogliono decine centinaia migliaia di anni per vedere i cambiamenti a livello microscopico dei batteri ci vogliono pochi giorni se voi prendete dei batteri e li mettete in un ambiente che loro non hanno mai visto mai dico mai mai in assoluto cioè voi prendete un battero che sta in Antartide al freddo e lo mettete e gli date da mangiare la naftalina faccio per dire bene questo dopo due giorni comincia a mangiarsela quindi cambia il sistema cambia quindi questo è un microorganismo nuovo fanno delle cose che vanno al di là quelli che sono i darwiniani stretti quelli che vedono soltanto Darwin e le teorie di Darwin e che lavorano essenzialmente sulle piante e gli animali quando gli raccontiamo quello che succede nel mondo microscopico rimangono sbalorditi per ovvi motivi perché nei microorganismi cambiano continuamente continuamente vuol dire che non da un giorno all'altro da un'ora all'altra i microorganismi possono cambiare e possono adattarsi a tutti ripeto a tutti gli ambienti in cui questi si vengono a trovare che sia acqua sia terra sia aria loro vivono da tutte le parti compresi noi e si adattano e cambiano continuamente quindi i microorganismi cambiano continuamente ma non in centinaia di anni gli bastano pochi giorni per quali ragioni e come si esaurirà la vita dell'uomo sulla terra ci sono ci sono diverse diverse possibilità si scatena una guerra quindi l'uomo quello che ragionevolmente può succedere è che la storia del nostro sistema solare come abbiamo detto all'inizio le stelle hanno una loro nascita evolvono e poi muoiono nascono il nostro sistema solare ha più o meno 4-5 miliardi di anni e credo se non sbaglio che il tempo previsto per diciamo per il sole per diventare credo una gigante rossa correggetemi o una cosa di questo genere sia altri 4-5 miliardi di anni quindi quello che succederà di sicuro è che prima o poi non solo gli esseri umani e le piante gli esseri umani gli animali e le piante spariranno quando questo succederà io non lo posso prevedere e credo che nessuno di noi lo possa prevedere però di sicuro spariranno perché piano piano si esaurirà la fonte energetica del sole e anzi il sole poi se diventa una gigante rossa ingloberà tutta la terra e quindi la terra brucerà ne abbiamo una dal vivo prego no professore la domanda è breve cioè premesso che le condizioni molto probabilmente non sono quelle di circa 4-5 miliardi di anni fa come quando è nato praticamente il sistema solare da terra e via di sconendo la domanda è in prospettiva si può immaginare che magari in altri spazi in altri pianeti via discorrendo il processo che c'è stato sulla terra possa essere in qualche modo attivato o a un determinato stadio grazie grazie a lei allora sì noi immaginiamo affinché la vita possa comparire su un pianeta così come noi l'abbiamo visto sulla terra si devono rispettare alcune condizioni la grandezza di una stella la grandezza del pianeta alla sua distanza dal sole e via discorrendo questo per esempio su Giove forme di vita di questo tipo come noi le conosciamo non sarebbero possibili o su Urano Nettuno Plutena neanche su Mercurio che viene spazzato via dal sole e via discorrendo però nella galassia ci sono miliardi di galassie in ogni galassia ci sono miliardi di sistemi solari e così via quindi c'è la probabilità abbastanza elevata che in altri sistemi solari da altre parti del cosmo ci siano pianeti nelle stesse condizioni o che sono stati nelle stesse condizioni di vita quindi noi non sappiamo se nei miliardi di anni precedenti alla comparsa del sistema solare o in questo periodo ci siano dei pianeti in cui la vita è comparsa personalmente ritengo di sì ritengo ritengo di sì e che ne compariranno anche altri d'altra parte noi vediamo se voi guardate il cielo non ci si pensa mai ma noi non vediamo mica il presente noi vediamo il passato vediamo vediamo solo il passato quindi il cielo potrebbe a un certo punto o diventare tutto nero perché tutte le stelle se ne vanno oppure potrebbe diventare ancora più luminoso perché altre altre stelle compaiono quindi noi vediamo solo il passato vediamo molti microrganismi batterici vivono tutt'oggi in condizioni estreme ad esempio entro la crosta terrestre ci sono delle teorie secondo le quali Luca si è sviluppato lì protetto dalle sterilizzazioni dei primi milioni di anni della terra lo ritiene plausibile? come no certo questa è una delle ipotesi io ho cercato di schematizzare il più possibile per non entrare nei dettagli ci sono delle ipotesi secondo le quali le prime forme di viventi potrebbero chiedo scusa essersi originate in condizioni per esempio sulla superficie terrestre nell'argilla perché l'argilla dentro l'argilla ci sono delle condizioni particolari che proteggono dalle radiazioni ultraviolette quindi è anche possibile che l'ultimo progenitore comune delle prime cellule possano essersi originate in quelle condizioni non è non è da escludere grazie c'è qualcuno nel pubblico che vuole fare domande prendo domande anche dal pubblico perfetto buongiorno a lei però io vedo il labiale signora non sento nulla vedo soltanto il labiale non ho capito bene questo prima l'acqua nei primordi del nostro sembra che l'acqua non c'era nemmeno quella questa è una domanda allora Questa è la domanda? Questa è una, l'altra vorrei dire questo, dice che i batteri si comunicano fra loro, ma per comunicare tutto è energia, si vuole l'energia per comunicare, qualunque cosa che noi facciamo ha bisogno di energia. Questa energia potrebbe essersi... funziona o non funziona? No funziona, funziona signora, ora non è solo labiale, ora sono anche gli orecchi. Allora, questa energia che ci vuole per ogni cosa, per ogni situazione di espressione, di visione, ha bisogno di energia. Questa energia fra batteri potrebbe essere di svilupparsi sotto forma di quanti, perché l'energia ormai dai time in poi sembra che sia forma di quanti. Quindi c'è e non c'è, è onda o particella, seconda della situazione. Ecco, questa è la seconda domanda, quella dell'acqua e quella del fotone. Allora sì, all'inizio l'acqua non c'era sulla superficie terrestre perché era stato spazzato via tutto dal vento solare. Poi però ci sono due motivi per cui è comparsa l'acqua, due meccanismi. Il primo sono le comete che bombardavano la Terra continuamente, quindi le comete sono masse di acqua congelata, quindi arrivano sulla Terra e cominciano a innaffiare in qualche modo il nostro pianeta. E l'altro sono le eruzioni volcaniche, sono le eruzioni volcaniche che portano fuori magma e che portano fuori acqua. Quindi l'acqua si è formata sia per l'impatto con le comete sia per le forze endogene all'interno della cellula. Per quanto riguarda la comunicazione tra i microrganismi, questi microrganismi comunicano ovviamente grazie all'energia, ma l'energia serve loro a costruire quelle molecole che poi servono a comunicare. Perché i batteri comunicano perché si formano delle molecole che più o meno grandi, che si spostano nel mezzo in cui vivono i batteri, i batteri li catturano e sentono la presenza di altri microrganismi grazie alla presenza di queste molecole. Quindi l'energia serve loro per le sintesi. Arrivo. Questo è un bombardamento astrale. Sì, sì, ce ne sono altre per sms. Buongiorno. Buongiorno a lei. Come lei colloca l'evoluzione di Luca a Tocci ad avere l'intelligenza umana? Insomma, l'intelligenza umana alla fine è il risultato di evoluzione di Luca, ecco. Allora, no, io non sono, non è così. Noi siamo il risultato di fenomeni evolutivi, non siamo il risultato diretto di quello che era Luca. Luca era una entità fatta da tantissime cellule come Solaris, il film Solaris di tanti anni fa, in cui l'organismo vivente era costituito da tante entità che si chiamano progenoti che interagivano tra di loro. Ma noi non siamo il risultato diretto dell'evoluzione di Luca. Noi siamo il risultato dell'evoluzione che ha portato da Luca ad altri organismi e poi ancora via ad organismi sempre più complessi. Quindi non siamo il risultato diretto di Luca. Arrivo. Grazie per la bella conferenza. Grazie, grazie. Volevo domandare due cose, due domande che forse, anzi, certamente hanno carattere anche queste, più di origine filosofica, teologica, che non scientifica. Lei che ci ha dato un quadro della materia in evoluzione, la prima domanda è questa. C'è un progetto che ha detto questo, è tutto casuale. Sai, si ritorna alla prima domanda dell'anno. Si ritorna a quello che abbiamo detto prima. Si ritorna a quello che abbiamo detto prima. La seconda è questa. Tutta questa materia in evoluzione, alla fine, costituisce per il nostro organismo, per tutti gli organismi viventi, degli antigeni. Degli antigeni, che danno luogo a degli anticorpi. Nel nostro corpo c'è una lotta continua che si svolge con tutte le armi, possibile ma immaginabile, da quelle più primitive, degli eucocisti contro i batteri, degli anticorpi televitati, si svolge in tutti i modi, possibile ma immaginabile, fino alla morte dell'antigena. Cioè c'è anche un quadro, oltre che evolutivo, un quadro involutivo. Qual è il significato di questo? È una questione filosofica, infatti. Allora, sulla prima domanda si ritorna a quello che abbiamo detto prima. Noi non sappiamo, io non so se c'è un disegno intelligente, tra virgolette, come dietro a tutto questo. E per quanto riguarda la seconda domanda, lei dice che dentro di noi c'è un equilibrio tra una lotta continua. Io non so se è una lotta continua. Come? C'è la vita e la morte. Certo, come tutti gli organismi viventi, c'è una vita, c'è un percorso evolutivo che porta dalla nascita fino alla morte. però non capisco, cioè c'è una evoluzione, non è un'involuzione, è un'evoluzione. La nostra evoluzione fa sì che dal momento in cui nasciamo abbiamo un nostro percorso e poi alla fine piano piano ci trasformiamo. Certo, ma non esiste un'unica forma di evoluzione. Sì, poi c'erano altre domande. Professore, io ho sentito da Focus che il BIMBANG, la particella, dà informazioni subito all'inizio del BIMBANG. Quello non è un inizio di intelligenza che si è sviluppato tutto l'universo e tutti noi. Lei l'ha letto su Focus? Su Focus, io dico poi due particelle, io poi ho aggiunto due particelle, maschio e femmina. Ho capito. Tutto è maschio e femmina nell'universo. Ho capito, ho capito. Bene, che le devo dire? Può essere, io le dico, 20 miliardi di anni fa non c'ero, quindi non le so dire. Quindi gli astrofisici potrebbero dare delle risposte diverse. Su quello che viene scritto su Focus, io ci andrei un pochino cauto però, perché spesso scrivono delle cose semplicemente per effetto, per dare un effetto forte. C'è? Sì. Come ti chiami? Andrea. Andrea, prego. Ma le tossine prodotte dai batteri quando entrano in un organismo, che proprietà hanno? In che senso? Sono corrosive? Allora, i batteri formano delle tossine non per farci del male, a loro non gliene frega niente di farci del male. Loro vogliono semplicemente, fanno queste tossine per poter entrare dentro un organismo e sfruttare le sostanze nutritizie. Alcune di queste tossine possono avere degli effetti abbastanza forti, possono distruggere anche le cellule, possono dare delle malattie e via discorrendo. Ma la maggior parte dei batteri non sono così cattivi, anzi la maggior parte dei batteri sono buoni e anche di molto. No, le batteri quelli cattivi, le tossine sono, cioè che cosa fanno? Allora, possono distruggere le cellule, possono in certi casi distruggere le cellule, oppure possono modificare in qualche modo le cellule in modo tale che queste cellule si comportano in maniera diversa. Ok? I virus comunicano, sa di loro? I virus, per come li abbiamo definiti di voi, non comunicano. Ma è bravo. C'è altro? No. Scusa. Ancora? Perdonami. No, non è bene. A parte sapevo che prima che il sole diventi una gigante rossa ci potrebbe arrivare un raggio gamma da una stella Wolf Lietta a 4.000 anni luce. Potrebbe essere... dove l'hai letto? Su Focus? Parecchie fonti. Sì, ci sono. Non ti so dire. Può darsi benissimo. Può darsi. Nel pubblico ci sono altre domande? Posso continuare a leggere? Ah, ecco. Bene. Da dove inizio? Allora, aspetti. Professore, mi scusi. Non le sembra che accettando la teoria del Big Bang inevitabilmente torniamo a prima di Copernico. L'uomo ritorna al centro dell'universo. Scusi, non l'ho sentita proprio? Non le sembra che accettando la teoria del Big Bang inevitabilmente torniamo a prima di Copernico. Cioè, l'uomo fisicamente o spiritualmente torna al centro dell'universo. Senta, non credo. Non credo che sia così. Onestamente non credo. Che si torni indietro a Copernico. Prima di Copernico. Non credo. Sì? Ci sono altre domande? Sì, ci sono. Caterina. Tu ti devi ancora laureare alla magistrale, vero? Sì, alla magistrale. E quindi occhio alla domanda che fai perché potresti non laurearti. E sta così, però non aiuta. Siccome è biologa e io sono presidente del Consiglio Laurea. Dimmi. Allora, io mi rendo conto che in una conferenza di 40 minuti si sia fatto un po' un riassunto. Però abbiamo detto che siccome alla fine già i primi organismi avevano messo in atto dei meccanismi per evolversi, no? Quindi basta mettere appunto un batterio in un ambiente nuovo e dopo poche ore già si ci si è adattato. Questo vuol dire adattamento, vuol dire appunto sviluppare nuove vie anche metaboliche per quell'ambiente lì particolare. Quindi noi sappiamo che per evolvere nuove vie metaboliche abbiamo bisogno anche però dell'RNA. Quindi mi chiedevo, a livello di Luca, quindi a livello proprio dell'origine dei meccanismi evolutivi, come si pone la cronologia, la nascita in ordine cronologico tra il DNA e l'RNA? Perché noi sappiamo dell'esistenza dei ribo switch, quindi di molecole di RNA che riescono a fare tutto da sole, no? Tra virgolette, quindi all'interno di Luca, cioè l'ipotesi dell'era pre-RNA... Ho capito, ti vuoi laureare Caterina? Ho capito, ho capito! Finito? Oppure ti vuoi esaltare ancora? L'ipotesi pre-RNA all'interno di Luca, come si ordinano? Bene, bene, allora è una buona domanda, quindi penso che ti laureerai nei tempi. Allora, sì hai ragione, cioè io ovviamente non sono entrato nei dettagli perché non possiamo entrare nei dettagli, però è chiaro che prima della comparsa del DNA c'è stato un mondo, un mondo che viene chiamato il mondo ad RNA, in cui tutte le prime cellule viventi contenevano e si fondavano su questa molecola informazionale che è più semplice rispetto al DNA, perché il DNA è una doppia elica e via discorrendo, invece l'RNA c'è delle caratteristiche più semplici, quindi è più facile immaginare che ci fosse prima l'RNA rispetto al DNA. Quello che si ipotizza è che la popolazione di Luca fosse già una popolazione di cellule che si basava sul DNA e che quindi l'RNA fosse la molecola informazionale delle primissime forme viventi e che poi piano piano si è sviluppato e cambiato nel DNA, o meglio non è cambiato, si è sviluppata anche la molecola del DNA. Quindi prima di Luca c'era l'RNA, ma Luca era già una popolazione di cellule fondata sul DNA. Certo, l'RNA era già pronto e poi il DNA. Poi c'era ancora qualcuno che aveva alzato la mano, se non sbaglio, mi sbaglio, e allora leggo ancora domande. Dunque c'era ancora una a metà fra biologia e teologia. Anche la morte fa parte della vita. Qual è la relazione strutturale, etica, sociale che le relaziona? Il quid che dà origine all'essere vivente in generale? Non l'ho capito, perché rimbomba il microfono. Era meglio se parlava. Allora, anche la morte fa parte della vita. E qual è la relazione strutturale, etica, sociale che le relaziona? Ecco, ora mi si è spento. Il quid che dà origine all'essere vivente? Il quid che dà origine all'essere vivente, è quello che abbiamo visto prima, secondo l'interpretazione scientifica, quello che abbiamo visto prima dà origine all'essere vivente. La morte è per forza, fa parte del percorso evolutivo. Se non ci fosse la morte, i sistemi non evolverebbero, rimarrebbero fissi e saremmo tutti uguali esattamente come potevano essere qualche miliardo di anni fa. Quindi è chiaro che la morte fa parte di un percorso evolutivo. Sì, altri due sms. Allora, visto che ci possono essere altri mondi, per questo motivo si parla di avvistamenti di UFO? Però, ascoltate, ora io non vi so dire se si parla per questo motivo di avvistamenti di UFO. Però qui, secondo me, bisognerebbe leggere meno focus. Quest'altra, ripeto, è un po' quella a cui ha già risposto, cioè la morte è intrinsecamente e inevitabilmente correlata appunto alla vita. Certo, sì, è così. E ci può dispiacere, però voglio dire, non siamoci il Gamesh che pensava all'eternità. Noi abbiamo un percorso di vita che è importante, che ci porterà poi alla morte di tutti e di singoli organismi viventi. E questa è la base, non è la base, fa parte del percorso evolutivo di tutti gli esseri viventi. Bene? Sì, è quasi inevitabile. Abbiamo affrontato le grandi questioni esistenziali dopo la splendida lezione che ci ha fatto il professor Fagli. Veramente bene. Grazie a tutti.